Siamo alla Box Island in Milano, una nuovissima palestra di pugilato, un punto di riferimento per il pugilato a Milano, ma soprattutto una palestra centrale, una palestra in cui vengono tanti vip ad allenarsi. Siamo con il maestro Franco Terlizzi, ex campione professionista di pugilato e con Stefano De Martino. Oggi Stefano De Martino è qui ad allenarsi, abbiamo proprio assistito a un suo allenamento, che ne pensi? Bravissimo, bravo, è bravo quando, è bravo come danzatore ma è bravo anche come pugilato, molto molto bravo, quello che fa è molto bravo, si impegna tanto. Senti Stefano, ma il pugilato, perché hai scelto di praticare pugilato? Ma perché comunque a parte il mio lavoro che è abbastanza impegnativo, mi piace fare qualcosa che mi stacchi, diciamo, è che per posare la concentrazione su un'altra cosa, il pugilato l'ho scelto perché secondo me non è proprio un vero e proprio sport, è più un'arte, insomma l'arte della box è una cosa che già risentite, più lo pratico più mi rendo conto perché non è solo pugni e violenze, è tanta musicalità, ritmo, c'è tanto impegno e sacrificio dietro, è una cosa che mi piace molto. Stefano lo può confermare, anche Franco è uno sport molto difficile, è molto difficile praticare la bella box, infatti si chiama la nobile arte, quindi per te è una vera e propria passione, sta diventando una vera e propria passione. Sì, sento da piccolo, diciamo che sono cresciuto io a Torre Annunziata, proprio la mia strada, è vicino a una delle palestre dei box più famose della campagna, che è la box respirata, quindi ho sempre respirato l'aria di pugilato anche un po' nella mia zona, però è sempre stata una passione, ho sempre coltivato, poi sono venuto qui a Milano e io dico che scelgo sempre il meglio, come al solito ho scelto un grande personal che è Frank, che mi ha portato a crescere la mia posizione di pugilato. Allora, la Box Island a Milano è una palestra da consigliare per chi vuole praticare il pugilato ad alti livelli, ma parliamo anche di pugilato ma di eventi, ci sono state le WSB, proprio il 17 novembre il forum è un successo pazzesco e l'8 dicembre ci sarà un'altra serata molto importante, sempre al forum di Assago, magari sarai ospite... Io cerco di non mancare perché è un evento molto bello, e poi ringrazio tanto la Nazionale che ci sta rappresentando veramente tanto, e sono dei grandi. Dolce e Gabbana, Italia Thunder, un nuovo team, hanno battuto i tedeschi, grazie all'apporto di Clemente Russo, finale decisivo. Grandi, i ragazzi della Nazionale sono grandi, Clemente, Valentino, grandi, sono dei grandi. Senti, ti ringrazio per questa intervista, Box Island a Milano, una palestra che sta facendo parlare di sé e sarà sicuramente un punto di riferimento, il punto di riferimento per il pugilato a Milano. Grazie a Franco Terlizzi e Stefano De Martino.